Il fatto che i gol non abbia fatto gli attaccanti per me non ha nessun significato, perché io ragiono di squadra. È ovvio che preferirei che li facessero gli attaccanti, perché sono quelli che magari quando non fanno gol si lamentano un po' di più e hanno bisogno anche per trovare forza di far gol. Ben vengono i gol anche i difensori, Fazio ne ha fatto favore, mi ha detto a fine partita che ha fatto assist e gol. Scherzando, però questo è un motivo di grande forza, che questa squadra ha cambiato nella testa, perché poi ritorniamo sempre a parlare di numeri e di altre CCC. Non dico altro, puntini puntini. Perché? Perché mentalmente è cambiata la squadra. L'ho detto dai tre giorni di tiro che abbiamo fatto e l'approccio che ha, l'atteggiamento differente, il fatto di lavorare insieme, di continuare a mettere in fuorigioco immobile come abbiamo fatto oggi, che l'ho spiegato l'altro giorno che significava, di lavorare insieme come linea, non di lavorare sul fuorigioco ma di lavorare corti. E questo ci ha premiato, ci ha premiato nella costanza quello che abbiamo fatto e sono molto felice proprio dell'atteggiamento, dell'approccio. Partita da veri derbi da uomini. Questo è stato proprio per me significativo.